E l'adesione al gruppo di azione costiera GAC dei Due Mari di Portoparo è il dato saliente dell'ultima seduta del Consiglio Comunare di Modica. L'atto si propone l'attuazione di una strategia di sviluppo locale partecipativo a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020. In altre parole lo scopo è in primis quello di creare maggiore occupazione. Ne fanno parte, oltre a Modica e Portoparo, anche Pachino, Avola, Scicli, Noto, Ispic e Pozzallo. Il presidente della Civica Sise, Roberto Garaffa, ha poi posto l'accento sull'allarme Carubi minacciati da un coleottero parassita, evidenziando la necessità di muoversi per tempo onde evitare la possibile perdita di un patrimonio paesaggistico inestimabile per il territorio ibleo. Il consigliere Vito D'Antona ha invece annunciato una possibile azione legale i cui sviluppi potrebbero mettere in dubbio la permanenza di qualche assessore in giunta dal momento che non sono arrivati alcuni atti richiesti in precedenza all'assessore all'urbanistica Giorgio Belluardo, di cui ha auspicato la sfiducia ed il ritiro della delega da parte del sindaco. L'amministratore ha rispedito le accuse al mittente sostenendo che la documentazione richiesta è in fase di redazione e sarà consegnata entro i termini massimi previsti per legge ai competenti uffici e a chi ne abbia fatto richiesta. La seduta, dopo un po' di question time, è stata dunque sciolta.